chi dedica questo scudetto? visto che questo scudetto è un po' di ciascuno di noi beh beh la prima dedica la faccio a un bambino che è morto due anni fa si chiamava Gabriel mi commuo perché questo bambino era tifosissimo del Napoli ovviamente ai miei cari, mio nonno che era tifosissimo vanno questi qua però queste persone che non possono godere più di queste emozioni diciamo quello è la dediciamo a loro ovviamente anche la mia famiglia partecipe a questo lo sanno che io partecipo a 360 gradi quando si tratta del Napoli